Buonasera, buonasera da Onda Tg l'ultima edizione dell'anno del 2020 che si chiude con una piccola grande luce in fondo al tunnel del contagio della pandemia albia il vaccino anti-covid per 30 operatori sanitari dell'ospedale di Sulmona. Saranno vaccinati il prossimo 2 gennaio. Allora sentiamo tutto nel nostro servizio. L'emozione è palpabile già a pensarci. Sabato 2 gennaio sarà il giorno dei vaccini per l'ospedale di Sulmona. 30 sanitari del nosocomio dell'annunziata daranno il via alla campagna vaccinazione anti-covid dopo l'invio delle prime dosi nei centri di stoccaggio individuati dalle rispettive ASL. A Sulmona l'ufficio igiene e prevenzione si è organizzato per far partire con il piede giusto la tanto attesa prova del vaccino. Nella prima seduta del 2 gennaio saranno somministrate 30 dosi. Si partirà lunedì 4 gennaio con altri 50 vaccini da effettuare per arrivare poi a toccare un numero di 80 vaccinazioni al giorno. L'operazione sarà svolta nella sala conferenza del terzo piano della Lavecchia, la più adatta per garantire anche gli adeguati spazi per l'osservazione post vaccino. Ogni utente, dopo aver beneficiato della prestazione, dovrà rimanere sotto sorveglianza per circa 15 minuti. L'area della sala riunioni può contenere fino a un massimo di 15 persone. Alla ASL Avezzano-Sumona l'Aquila sono stati consegnati 360 flaconcini, ognuno dei quali contiene 5 dosi che consentiranno di somministrare il vaccino, in questo primo step, a 2340 persone. In questa fase di avvio della campagna vaccinale, a ricevere la protezione contro il Covid, saranno gli operatori sanitari, in un secondo momento gli ospiti dell'RSA della provincia, dove l'adesione è già alta. Durante le operazioni di somministrazione sarà in azione un team, composto da almeno un medico del Siesp, due infermieri e un amministrativo, che saranno affiancati dai medici dei diversi reparti ospedalieri. Fondamentale in questo gioco di squadra è il contributo alle servizio farmacia ASL, che ha il compito di preparare le singole dosi, 5 in tutto, che si ricavano da un singolo flaconcino. Intanto l'ASL sta assumendo ben 81 infermieri. Gli uffici competenti hanno ultimato i passaggi amministrativi e l'adozione della delibera del manager Roberto Testa segna la conclusione del litter necessario per dar corso alle assunzioni. Già nei prossimi giorni verranno diramate le convocazioni per arrivare, in più step, all'immissione in servizio dei nuovi arrivati. Le assunzioni verranno fatte sulla base della graduatoria predisposta, in seguito all'avviso pubblico, a cui hanno risposto 2.300 candidati, residenti in diverse regioni d'Italia, di cui 2.222 giudicati idonei. All'assunzione degli 81 infermieri seguirà l'immissione in servizio di ulteriore personale infermieristico in relazione alle esigenze dell'azienda. L'auspicio è che tutto fili liscio affinché quella primissima dose di vaccino che sarà somministrata al primo operatore sanitario dell'ospedale di Sulmona sia una piccola grande luce in fondo al tunnel del contagio e della pandemia. Intanto l'attacca non funziona nell'area triage dell'ospedale dell'annunziata, quindi il disagio di fine anno con le diagnosi dei pazienti covid dirottate nel nuovo corpo ospedaliero. Sentiamo che cosa è successo nel nostro servizio. L'attacca non funziona nella lavecchia dell'ospedale dell'annunziata e l'esame viene svolto nel nuovo corpo ospedaliero. Accade a Sulmona nell'ultimo dell'anno, una fine all'insegna di disagio e peripezie che ha costretto i sanitari a rivedere i percorsi covid per far sottoporre i pazienti all'attacca per la diagnosi da coronavirus. Da questa notte le ambulanze hanno fatto quindi la spola da Via Le Mazzini a Via Montesanto per aggiungere il nuovo macchinario che viene utilizzato anche dagli utenti che non transitano per l'area triage. Ovviamente vengono poste in essere tutte le procedure di sanificazione, vengono usati dispositivi di protezione individuale, ma il guasto dell'attacca della lavecchia crea inevitabilmente le disagi per la gestione dei pazienti covid e non solo, con il rischio di rallentamento delle prestazioni di intasamento dei corpi ospedalieri. Questa notte infatti quattro pazienti hanno stazionato nel vecchio pronto soccorso in attesa di tampone e collocazione. Due sono stati ricoverati, due dimessi presso il proprio domicilio. Dall'altra parte, il nuovo ospedale, oltre a seguire momentaneamente l'attacca covid, vengono tenuti sotto osservazione i pazienti che attendono il riscontro del tampone molecolare che negli ultimi giorni viene svolto anche ai negativi a rapido. Ebbene quindi rimarcare la necessità di predisporre una nuova area grigia o allestire delle stanze a pressione negativa nei vari reparti ospedalieri, onde evitare di ricreare la stessa situazione di qualche mese fa, ovvero la pressione sull'ospedale, su pronto soccorso e l'intasamento del sistema. Ai sanitari che questa notte e domani saranno a lavoro va il nostro augurio di buon 2021. Anche loro meritano un po' di normalità dopo un anno difficile sul fronte, che li ha visti in prima linea anche al di là delle loro competenze. L'effetto rimpatriate che si comincia a far sentire sulla curva epidemiologica del centro Abruzzo. Sono 46 nuovi positivi, tra cui uno Torino dell'ospedale di Sulmona. Intanto è scattato il trasferimento all'istituto Spallanzani di Roma per un 46enne. Tutti in questo momento stanno facendo il tifo per lui. Facciamo il pompo nel nostro servizio. 46 nuovi positivi, tra cui uno Torino dell'ospedale dell'Annunziata, tre ricoveri e un trasferimento allo Spallanzani di Roma. E questo è il bilancio del coronavirus per la vigilia di capodanno. Il Covid non concede una tregua, nemmeno per l'ultimo dell'anno, presentando il conto delle festività natalizie, alla luce della crescita dei contagi sul centro Abruzzo, che in parte potrebbero essere dovuti alle rimpatriate per il Natale. I 46 positivi di oggi fanno riferimento alla tornata dei tamponi svolti tra la giornata lunedì scorso, 176, e quella di martedì, 109. Non un aumento esponenziale, vista la sospensione dello svolgimento dei tamponi dal 24 al 27 dicembre. Ma da quanto si è appreso, una cinquantina di persone sono state codificate al momento al Dreming dei Carabinieri, proprio per il sospetto di un contagio durante il periodo natalizio. Se le relazioni arrivano da una frazione del comune di Sulmona e da un altro centro Peligno, ovvero di momenti conviviali tenuti nelle case, un dato importante da rilevare alla vigilia del capodanno che deve servire per mantenere alta l'attenzione nella festa più a rischio di assembramento. Gli ultimi contagiali dell'anno sono domiciliati 20 a Sulmona, 8 intro d'acqua, 6 pacentro, 4 Prato-La Peligna, 3 scanno, 1 ciascuno a Campo di Giove, Barrea, Rocca Casale, Castelvecchio, Subeco, più un caso in corso di verifica per il domicilio. Tre persone sono state ricoverate nell'ospedale di Sulmona, due medicina Covid e una in attesa di collocazione al pre-triage dopo la richiesta di cure di agnosi. Per un 46enne di Sulmona è scattato nel frattempo il trasferimento nella terapia intensiva dell'Istituto Spallanzani di Roma dopo il peggioramento del quadro clinico. Tutti stanno facendo il tifo per lui, incrociando le dita perché superi questa battaglia. In tanti questa sera aspetteranno la mezzanotte per accertarsi che il 2020 sia davvero finito, l'anno del Covid, delle distanze. Per questo si rende necessario per il capodanno uno sforzo collettivo sul rispetto delle misure anticontagio per dare un calcio al virus. Dalla casa di riposo all'ospedale un altro morto sul registro Covid nel centro Abruzzo. Si tratta di un anziano di Roccaraso e quindi si chiude così un'annata devastante. Il virus continua a mietere vittime in centro Abruzzo anche alla vigilia del capodanno. È morto ieri nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila un 73enne di Roccaraso, Pasquale Rucci, ex dipendente dell'Enel. L'uomo era stato contagiato in una RSA di Castel del giudice in Molise. Manifestando i primi sintomi è stato ricoverato nel nosocomio di Campobasso. Dopo alcuni giorni è tornato nella cassa di riposo per anziani, ma le sue condizioni di salute sono peggiorate poiché è già colpito da altre patologie. Condotto di urgenza a presidio di Castel di Sangro, i sanitari hanno deciso per il trasferimento all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove purtroppo è deceduto. Pasquale Rucci era conosciuto per il suo carattere socievole e reimpegnato anche con la Chiesa Cattolica, volontario della Croce Rossa, lascia la moglie e tre figlie. I funerali si svolgeranno domani, primo gennaio, a Roccaraso. Si tratta quindi dell'ennesima vittima legata al Covid in un anno assolutamente da dimenticare. Termina qui la prima parte di Onda Tg. Noi ovviamente torniamo tra poco con le nostre notizie.